L'artista esistenzialista buonasera da tutti, oggi fusilli, provola, zucca e salsiccia, Liliana vai Ci vuole un'ora e un piatto veloce da fare senza troppi ingredienti che abbiamo sempre tutti qua in casa quindi cipolla, olio e salsiccia, dopo si tira col vino bianco, si mette la zucca a dadini si fa cuocere, dopo di che si cuociono i fusilli, 10 minuti, poi si aggiunge besciamella, provola e si mette al forno per un quarto d'ora Questa è quanto? L'artista esistenzialista buonasera da tutti